buongiorno dalla merceria hobby shop bomboniere questa bella bambolina di perline è il protagonista del video di oggi il kit molto completo sia per quanto riguarda i materiali le perline le testine le cappette da aprire vedete sia per la faccina che al centro le perle sfaccettate i capelli d'angelo ecco quindi tutti i materiali la tela per fare la base della bambolina così come le spiegazioni molto precise passo a passo e le foto dei passaggi intermedi kit da quattro bamboline lo trovate nel nostro shop online in vendita ad un prezzo d'occasione buona giornata